Non so perché Raven, me ne ero andato con i Raven Sto invecchiando ragazzo Sono un rincontro No io c'ero nei Raven Ah allora non me ne ero inventato Quando c'era K5 Sì K5 me lo son beccato In un torneo contro a cittare No chi era K5, non era K5 Era uno dei K3 K6, K7 K7 non credo perché spara K3 non lo conosco Eh ormai ci sono tanti K Eh sono tutti capiti di copia Diciamo Che siete raga? Sì sì Perché non ci sono Ma se io Che ha fatto? Si è mutato Si si è mutato Ora mi sentite? Sì Ah ok no Scusate è la prima volta che lo uso dall'Xbox Quindi per capire tipo come mutarmi Bello è vero che l'hanno fatto da Xbox No ma io avevo provato un mese fa a scaricarlo Ma non so che cazzo mi faceva fare 3000 casini Invece stasera è stato semplice Quello è un accesso ti fa fare Ti chiede le mail Ti chiede una password da mettere Il nome e basta Che vendrà Sì sì Devi fare Sì sì è una cazzata L'altra volta invece Forse non facevo la cosa giusta Bello mi sono appena finito di ricordare Uno che ha battuto In che senso? Niente uno che Niente uno che si muta Uno che gioca a scacchi L'ex campione del mondo Tipo pluricampione del mondo Tutto quanto In un Arriva in ritardo A una gara Lì tipo un campionato Lì se arrivi in ritardo A qualsiasi competizione di scacchi Cioè anche se L'altro deve incominciare con il nero Arriva uno Uno gli fa partire la partita Lo stesso Ed era tipo Due minuti e mezzo in ritardo Cioè la partita durava tre minuti Lui c'è già due minuti e mezzo persi E' riuscito a vincere il game Ti dico tutto Non ho seguito perché Mi hanno invaso la stanza Ho sentito solo N word Big chat E' andato in chat cosa scrivono Ah il numero di telefono Non ho scritto per il video No No Eh si non è saputo che Eh si però mi disse Ma che cazzo Ma che cazzo Di di prezzo Adesso dovrà fare il gulag con la regina Elisabetta E' uno One shot GG No ti un altro Niente ancora Carcato Che palle che mi deve carriare a freccia Vai ci copre GG il rest Di buscia Freccia di buscia Ti rianimo Ti rianimo Ti rianimo Ti è fatto il giro Ti è fatto il giro Ti è fatto il giro Ti abbiamo dietro anche Arriva il nostro attacco con mortaio Ti è fatto freccia quello Ti ho tirato un grappolo Ti ho tirato un grappolo Per sicurezza Ce ne abbiamo uno anche alle spalle Verso la missione Si è dentro casa bianca Che palle Che palle Che palle Che ce l'hanno comunque E' Marilena per il follo Benvenuta Marilena 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 Ho capito Marilena C'è davanti C'è davanti Mi serve la mano 2 a terra 2 a terra Freccia 2 a terra Niente no no Ci sono adesso Che 3 erano Sto giocando 1 contro 2 Al GULAG Io Il mio amico è FK Niente Gli ho tipo tirati giù 18 Restartiamo C'è morti utili no Boh Io sono ancora il GULAG Fammi vincere Fammi vincere il GULAG Così rovino l'esperienza Gli altri Poi possiamo guittare Niente Ok Poi vediamo Mi rovino l'esperienza Qualche turno e via La sua morale è solo rovinare Il gameplay alla gente Oh Guarda adesso metto pure la musica Io Bella Renzo Grazie per il live Diero Dietro il GULAG Ma come cazzo Prima ha vinto il mio compagno Il GULAG Ah si No No Ah no si 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 lo vinto Lo vinto Lo vinto Eh problema che è che si aspetta un altro team Come so No Aspetta vado Vado a fare Il contro Vai a pushare questo Che sto speculando No vado Vado a fare una cosa Vado a fare la Si trova precisamente qui Lo sto pingando 2000 metri Quanti 2000 metri Ma dove cazzo sei Sono Darti il porta Qua Dove sto pingando io Sì due c'è la cosa Che palle io non ti vedo Ne stiamo aspetta Ti stai aspetta Ma che ne so Un altro team Back Crew si chiama Ah niente io Pure tu È l'amico di Di freccia Al GULAG Mi fa Non mi permette un secco dei bot però Porco dio no Di solo Ma adesso Adesso non ho fatto pure Sa features Che cazzo Lo sapeva sta qua Sono morti E io ho fatto forse Vi posso arrestare C'è un DGK Cazzo lì a trovare Eh ma ho fatto la No c'è gente Ho fatto la Rocaforte Ok no Era un flare Niente Easy Dai freccia dai Salvaci Salvaci Ma ora mi sono reso conto Che Non c'è gente Sta parlando C'è altro gioco Spark C'è davanti Niente Sono morto Porco dio c'è davanti È nulla GG Sinceramente Non ho capito Il tipo Cosa ci faceva Sul tetto No Non ho ben capito Il tipo sul tetto Cosa faceva Però Non capisco Perché Come si fa a fare Così schifo Dopo tre giorni Che non ho giocato Grazie Grazie mille Le giorni Boh Che cazzo Mi è successo Ma Hai visto cosa Sì Il top G Che ha fatto No Che ha fatto Ha fatto Insieme a Greta Thunberg Il dissing Sì Eh So che l'hanno fatto Ma che è successo Eh Poche parole Tipo lui Lui ha fatto Un post Su twitter Dove Se qualcuno Diceva Se qualcuno Sapeva Come si chiamava La sua mail Che gli mandava Perché lui C'ha tipo Trenta macchine Gli voleva mandare Quanto 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 inquinavano Quanto consumavano Tipo di benzina Lì Di Le robe così E Lei gli ha risposto Sì certo Questa è la mia mail Tipo C'ho il cazzo Piccolo Eh Punto Hotmail Punto Com Lì Una roba del genere Fatti una vita Tipo Get a life Tipo Vmoldick Qualcosa Punto Get a life Punto com Una roba del genere Gli ha scritto Tanti l'hanno presa Sul ridere Però Sarebbe anche Da Cosa Da Body Shaming Ma che cazzo Eh si eh Ma gli ha risposto Lei così Io non ho capito Un cazzo io Lei ha Gli ha scritto Tipo I have Moldick Qualcos'altro E poi Scritto Punto Get a life Punto com Come mail Ma che cazzo Sì sì Così cattiva Ma non gli ha chiesto Nulla alla fine Vabbè 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 perché cazzo Sto top G Non si voleva Fai i cazzi Su Scusi Ha nulla da fare Oggi Dove Diciamo Devo voler un po' Prendere per il culo Che C'ha 200 macchine Fa tutto il cazzo Che vuole Ah vedi Il cosa si chiama Moldick Energy Chiocciola Get a life Punto com Oh Vabbè Mi dissocio Body shaming Gratuito Gratuito Che no Che adesso La cosa bella L'ha detto lei Ma se era un tipo Che lo diceva Una tipa Che cazzo succedeva Cosa che sarebbe Successo Vuole sempre andare A Zaya A Zaya Sì A Zaya Andiamo Minchia A Zaya A Zaya A Zaya Minchia A mo gli metto pure La musica Di A Zaya A Zaya Finchè Non Non mi ricordo Come si spara Che è successo È sparito È sparito Gil Che Che l'hai visto Come è sparito Gil L'hai visto pure tu No Cosa Che non riesco più A sparare Eh vabbè Già quando uno E' sotto di me di kill Quando uso il coltello Che sono ascolto il coltello User Se diciamo che non è una bella figura Eh Voi Sì sì Purtroppo sì No frecci Come purtroppo sì Oh Eh Eh Boh Freccià E così G Ma te l'abbiamo fatto Vado quanta gente Ragazzi Ma che è Osservatori La priorità è l'eliminazione Eh zio Smiro troppo L'ho messo one shot Smiro troppo Smiro troppo Dio Cristo Tu Smiro Sarà che non so Non sono con il mio pad Però Q2 Che smirate Che c'è una di gente qua Porto via Allora c'è la fortezza Ma non c'è quella dei bot Mi sa Eh ma troppa gente Troppo Cioè Ci sono un po' tre team Tre quattro team Full Questa cosa mi sta facendo Incazzare Sì 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 Ha vinto il gulag Il mio amico Andiamo sotto Da qualche altra parte Boh è dato I tre elettri Vidro Che pare che Con il giro Il giro dall'altra parte Gente che fai Da qui Guarda Tu faggot Questa come cazzo Arrivato così di corsa Lo sa solo lui Però Se sopravvive Tornerai in azione On your right On your right bro Questo è difficile capire un cazzo Non sono le mine che hanno messo perché faccio schifo vai pleccia come on io posso andare qua sotto qua c'è uno sciacallo no qua che di solito qua ci sono vedi? no sono già luttate credibile ma mi tocco fare tutto il giro vediamo se le trovo tutte però vabbè le stv ma ce l'hanno lasciato dai sono stati gentili vuol dire che sono venuti qua pure già armati sono quasi che un tipo 7 mi figate perché c'è un frigo che cazzo ci fa un buco qui no un buco va bene perché cazzo è una pista d'atterraggio quindi la spacchiamo ma porco dio ma che ci hanno lanciato come bomba un frigo c'è non c'è che sono in vabbè non posso dirlo perché questo c'è qua folgoratore sta vabbè questa me la tengo una bella flash un'altra va a essere qua davanti tipo uno lì e uno là questo qua me la ricordo a memoria questo l'ho preso tutto questo anche infatti non mi dice un cazzo ti ricordi tutti i vostri a memoria sempre poi vedi adesso ci sono sempre scena delle persone quindi esatto in chat mi dicono giustamente che il cratere è stato fatto dal frigo capito che avranno lanciato dallo spazio per l'altro sacco di coraggio aperto per tutti e due dai e anche lui su facebook o frecce che merda siamo in pochi rimasti su facebook ormai non oh tramonte spero che non l'hai preso a male no assolutamente ramo no no verrà verrà tranquillo che se c'avevo lo scudo mica vi faccio fare una brutta fine tutti quanti allo start mi ha tirato una laggata 100 200 ms e sono morto perchè allo start se non sbaglio la vita dei raven come ai vecchi tempi tu mi hai grillato vabbè poi lì mi hai fatto adr che cazzo dovevo fa con la pistolina mi hai fatto sono in trovo per scrivere questa lei ci sentiamo bella ramo ma per la cosa che ti ho sparato sul cadavere no ma sai che cazzo mi frega se ti killavo io non ti preoccupava pure io ti sparavo sul cadavere no ma hanno preso il contratto no c'è gente qua TODOS dai fami dai tali oh bella ramo oh mi stanno facendo pure la la loca forte vicino quella grossa e quanti è una smog mi sa una stanza qualcosa la 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 bello cosa io io che a guardarmi le mani si perché non c'è neanche lo scioppo non c'è pure lo d'auto il testo c'è un luogo di cuocere lo dico ma mi tengo il pinto dopo la uova percorso ok ma questa è meglio questa c'è un'altra perk vedi che ce l'hai a fianco e ti hanno fatto esplodere una cassaforte a fianco pre credo nella casa davanti a te c'è la macchina ho il camion ho il camion o nelle case proprio a fianco c'è l'hai quello dove c'è la macchina dietro ma lo so gioco non si trova un cazzo ma quando sei in situazioni tipo quella là solo lo sciacallo bisogna fare che altrimenti i soldi c'è vero ce ne sono l'avremmo fatto prima a restartare il game è probabile 3-8 sono ancora 200 non ce n'è più poi ti butti già airbot qua a questo tanto ci devi andare comunque perci per restare buonasera coca bella il coca è entrato a posto coca si si mi sta carriando freccia per farti capire come sta andando alla sera ma sta giocando con lo scudo sta giocando sta giocando con le mani e con i piedi con le mani e con le mani con i piedi con i piedi fammi cercare uno shop da andare a restare uno shop te questo pinga ci siamo anche noi freccia che ti possiamo pingarle cosa lo sai si ma lo devo guardare per me è quello più safe ascolta te mi porti in un punto che ci muoio subito aia aia ma non c'è octocutti octopussi in live che la vado a semi snapperare no? aspetta che te lo dico c'è gente di ocane qui di soul ma ci metto pure la musica che bello è il modo di giocare di freccia octopussi no non c'è mi sa che gli hanno spaccato anche il camion si ah io pensavo qualcos'altro quando si non la posso stiamo parlando ancora di si contenghi si contenghi si contenghi piano allora la donna è una bruca no? si che ora devi farmi una sound che mi ha arrestato brrr ho ho sono noi ho in o no e' la cosa? ma cosa? ma cosa? ma cosa? ma cosa? yogurt i alzurt i alurt Allora, qui sono sul top top E ci metto pure questa Ma domanda, come cazzo c'è rio di Sto sciacallo ragazzi, non pevo le armi, restate Ah, mi sa che c'è gente Eh, ma tanto mochi di viscossa comunque là Mi stanno pushando e botte o frecce Pensa che ti stesse pushando un gruppo di calabrese Ma vuole ancora uno E' schifo E' successa una cosa un po' che non posso raccontare Anche oggi si è un botte coga No, e... Vuoi che ve la racconto pure no Boh, prende se bannabile, se non è bannabile E' a limite E' a limite E' a limite E' a limite A limite Di dove siete che hai parlato? Di... di Taranto Di Taranto Mi sembra di... delle mie guane No, no, Torino No, vivo a Milano da... da tanti anni Ah, ok, è per quello che... senti un accento nordico No, vuol dire che lo sto prendendo Ma sta prendendo la cittadinanza Ah 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 Deve, aspetta che adesso arrivo col barcone E puoi prendere la cittadinanza Ah 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 ah... è un merda Ah ah ah... Nucca conquer pure UAV UAV, alleato in zona Gassi in avvicinamento, raggiungere la nuova zona Aspetta c'ho uno davanti io Ah si nel gas c'el hai L'hai più che ha pure brillato Noo Sì, grazie Sì Alla sotto cuscino Disis freccia Il player meno tossico in italia Prendi il quad freccia Hai doppio restai Io mi sono fatto due kill e sono rimorto A francese sta giocando solo No, non credo C'entri anche te C'entro anche io Qualcosa di grave Sì, ma ci sentite sempre grave E dici che cosa Non posso dire adesso In live non lo puoi dire In live non si possono dire queste cose Quindi deve essere una cosa importante No, importante no Però che Che Ho già parlato l'altro giorno No, vabbè Di cosa si tratta Di cosa si tratta? Eh, lo saprai Ebbene So che c'è freccia Se no ci fa la clip Ma se volete Diventa solo un po' più famosa Guarda che c'è gente da sinistra Vabbè, mi sacrifico Porco dio Come si guidano queste cose Trash dice You hear Come cazzo dici tu Quando vuoi emettere la musica Io, ragazzi, voglio una musica NONI Ecco, guarda che si muoge come un fru No Conoce di oggi Ok No No Ma cazzo Anche da morto Nessuno lo può fermare Se le facce entrambi Si è autoressata Se le facce entrambi Io sono rimorto Per andare a prendere il loadout C'è gente che sta camperando il loadout E' stato utile il tuo arrestre Sì, dai Verra ricordata E' guardato un po' di feature gameplay Ora mi guarda un po' di Gigi Ne restano solo 25 non riesco a giocare non chiedermi ci vuole un po' di musica ci vuole bella senti voleva una musica se voleva vedi madonna quante maiala questa dei fanatic dico solo questo inizia perché inizia con l'acca non lo so ma a me a me non piace anche a me bella antonino grazie per il like bella per antonino bella bella antonino se continui come hai fatto ieri non giochiamo mai più insieme non ti parli nulla un po' come molesto ah avete già finito come ogni partita ma facciamo un bel game ragazzi che dite ce la facciamo bel game non giocando proprio come i pazzi è un brutto periodo a divine gli sono morte le mani e quindi anche la testa una partita con 192 di ping fare una partita full concentrato è troppo difficile per io è da una settimana che sto continuando a bere come un coglione ma tu lo sei sempre stato anche senza bere torco dio saluto mi è uscita anche anche mia mia zia mia madre cogiuda non so se capita anche a voi anche la bestemmia eh sì tu non stavi bestemmiando ultimamente però no è perché sono una persona calma sì però quando mi nervosisco da ieri a oggi ne hai tirato ai 10 comunque la mia media è di 100 al giorno 10 in live da me considera che giornalmente quando io lavoro ho una media di 80 bestemmie ma non fai nulla a lavoro a lavoro a lavoro sì oh divine cosa fai per tirare le bestemmie dimmi l'altro 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 giorno l'altro giorno cosa gli ho fatto vedere di cosa abbiamo parlato per un'ora ma c'è strano che coga parla con te per un'ora di cosa avete parlato non mi ricordo se era dall'1 alle 2 e dalle 2 alle 3 non mi ricordo dalle 2 alle 3 era di fucili sono rimasti lì tutto il tempo a parlare solo prima delle cuffie dopo gli ho detto eh ma lì dove andare a caccia e le robe e incominciano tutti i fucili tutte le robe con quello che vado io sto sito è il supermercato delle armi mi disso sono tutti fucili sono tutte armi usate sono ma no c'era Desert Eagle 900 euro peppalone mi disso bella per peppalone tutto a posto te chi è il pep ma le vende in modo illegale sto sito oramai oramai così tardi eh tardi perché sono andato a casa di amici e mi sono connesso solo ora è periodo di feste mi stanno invitando dappertutto dimmi cos'è che hai detto nulla legali legali hai chiesto se fossero i legali c'era M4 Mp5 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 bellissimo mille mille rotti euro erano mille due mille cinque sì ma non mi interessa basta capito ti compri un Mp5 con con mille cinquecento euro e puoi sparare le vecchiette che ti dicono di buttare l'immunizione nel bitone giusto spettacolo calibro 22 con il caricatore da 22 colpi bellissimo anche la vendevano la ok andiamo a osservatorio spettacolo e ho capito freccia non mi interessa al momento ah tu se vuoi fare una tentazione nooo 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 va bene la pizza era la pizza la pizza è diverso dal caffè perché il caffè è in chiusi con la pizza invece no è tranquillo è diverso è diverso sono sceso un po' prima sono andato a prendere una cosa bella metto sotto un po' di persone con questo no perché mi si sacca il bad stranamente mi frame lagga meno del solito o è proprio una mia vista che è così non lo so mi dirò più calmo ok adesso arrivo metterò musica le persone c'è qualcuno sì vedo un urco di quanto ne vedo mi dice io hello guys welcome star attenzione in atto può ingaggiare tutti i versanti vanno a main però vado una cosa vacca eee nulla io senza uno start senza morire non ce la faccio a farlo e vabbè devo andare così devo andare così fratelli che periodo di merda te lo giuro è fastidio non va un cazzo c'è gente oh si main era craccato eh l'ho craccato l'ho messo one shot c'è gente ancora dentro si si ce ne sono altri due uno l'ho fissato uno l'ho fissato uno l'ho fissato un attacca arrivo esci il pusho muore dalle mine forza no è morto dall'assalto c'è un altro team qua eh no vabbè dai mi sento male e che cazzo vabbè un cecchino è messo a terra dal mio piede mi fanno arrivo e no eh ti pusho due 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 almeno due due no anche un terzo c'è sopra I'm coming back eh devo chiedere un attimo perché c'è troppa gente di là mi fanno a paura con tanti uomini cattivi guarda i torni sono visti si qua pingo due sono almeno e uno è qua ah intanto gli lancio un bombarda per iniziare sul tetto uno sul tetto? si mi farono fuck muoio 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 perchè sto gioco si cao quanti quanti è sul tetto? uno solo uno solo sul tetto uno solo? ok si di nuovo visto uno solo porco di massimo e si vuoi incassare nei peggio buco che sto gioco di merda veramente io ancora coglione vi ci gioco un compagno ho fatto morto l'altro fa morto io morto morto basta che mi salvi no no cazzo eh aspetta essere stato quello sotto di me aspetta c'è qualcuno Koga io ok arrivo l'altro io ti gioco ho compreso eh sono sei figlio e aspetta che ce l'ho nel gioco arrivo? da me vuoi venire si vengo ti trovo a mano allora veramente grazie per il like sarai benissimo no 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 chi è ecco qua 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 ho visto guardate Sara vai morto ero te coglioni suon e' quella poi lì era quello che avevano ero nel buco eh oh vede una fortezza amere da me, da me, da me fuori 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 qua fuori qua fatti velo erano due erano due anche dentro eppure la fortezza puoi da fare sarà buttato a lottare l'amico c'era ancora gente dentro qua io sono sui vetri un pochettino verso il duo mi ha tirato due colpi, ti ho tirato non cerca di essere stato fatto da sotto mi segretario, da sotto da un altro, giro di sigili vi invaglielo saggio maestro sono morti tutti exo c'era un team che conoscevo italiano exo vabbè questa è tutta la mia roba quindi facciamo che riprenderci c'è un bel copino e via raggio maestro sto pronto a concentrarmi per un game eh sa che non ce ne sono no ma vedi come cazzo mi ha fatto quello anche li vedevo la la tettolina la tettolina di minchia eh c'è il la roccaforta avete gente alla fortezza raga se è rossa vuol dire che c'è qualcuno credo sì 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 ma andiamo a farceli tanto non abbiamo soldi né niente perciò 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 no 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 quanti 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 alla porta è uno è l'ultimo si sta mirando si sta pushando no no è un botte uff 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 sono morto perchè devo farmi affillare il tuo nuova zona sicura come votarmi nei purelli apri la cassa bianca dietro c'era una cassa bianca uff c'è gente c'è gente c'era un problema vietano tutti in perfile altrimenti eh vabbè dai ciao ffacuculo va ffacuculo va ffacucione in 2 ffacucie finita 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 Già meglio degli altri game Con 8 kill Facile che Che mi ammazzano 2 contro 1 Tardi 3 contro 1 L'avevo quasi steccato So che l'ho sbagliato Devo lanciarlo io il bombardamento Ho sbagliato di 2 secondi Ho lanciato poco prima Che me lo lanciassero loro Quest'ora non pushavano E se pushavano appigliavano il cazzo nel culettino No no non dissociarti A loro piace Allora voglio fare Un RPK con Mitriatrici Leggerne RPK Ci mettiamo Volata Ci mettiamo il nostro ZLR Salon 5 La canna Che non serve Un emerito Cazzo Ma noi la mettiamo Spesso Minino Non lo trovo Niente Non le so 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 La sapevo già Un'altra maestro Un'altra Un'altra perla di vita 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 Grazie. Sarò con te, e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, ti vai, ne usa il sapone. Non si esprime. Ma le cazzate che dici? Sì. Lo sapevo. Stiamo andando il testaggio, guarda l'entrata, non ha visto la Divine. Ma quello che ho detto è Divine. Che aveva Divine, non cazzo, toraci. Mi stavo guardando che giocava a scacchi. In che senso? Eh, è l'ex campione del mondo, perché all'attuale è cambiato. Si chiama magia. Eh, tipo quello vecchio, tipo Charles Magnum, una roba di gente. Si chiama. Magnum. Poi è stato battuto, ha accusato il tipo che aveva un dispositivo anale. Ma che... Un dispositivo anale? Si. C'è gente qua da me, eh? C'è gente... C'è un calabrese qua. You faggot! C'è gente qua. Occhi aperti. Sopra. Non troppo non c'è nessuno del testo, vero? No, 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 qua dentro, qua dentro. Richiedo ricognizione aerea! Confermati! No, scusami! Vabbè. Vediammelo quando voglio riprendere il cazzo. Guarda, ma questi mi sa che arrivano verso di me appunto. Minchia, quanta gente c'è da me! Sì, ma... E' un volo qua! Prevatta? Ok. Andiamo a farci quelli dietro? Attacco con montagno alleato! Sopra! Sopra! Quelli qua da me sono invisibili, sono! L'ho visti, là! Nel... Nel... Non lo vedevo, non... Boh! Sopra! Ok, qua sotto! Questa strada è caricato? Eh eh, he, aspeggitato... Yo bro, buona su music? Uno è dentro, eh? occhio 4 per gli altri no presa la mia minacra poloso scoppiare la soluzione no a un pallone volta ma c'è una cosa si 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 arrivano arrivano li faccio pentire un po' di moda 1 no crack no 3 no mi hanno visto a me ho visto tutto 4 ok 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 stanno indirreggiando casa roccaporta sono andata alla casa della roccaporta sicuro poi c'è la cassa ora fredda che apro dimmi dammi un'altra fate uavvi è quello che fa col sapone tanto stai con martin allora viviamo da più di un anno da dicembre dell'anno scorso no cherry la devi cambiare dei quattro insieme da quasi due a aprile facciamo due anni il tuo team è nella zona sicura c'è il giorno di aprile sempre è buttato ma wafaa non l'abbiamo preso no hanno preso manco l'arma che è quello ho trovato tutto giunto oh oh vero ah no cazzo quale 1 raga dov'è che fa questo qua eh quelli che sono rimasti indietro stanno facendo hanno fatto la cosa qua hanno fatto la andiamo a farle andiamo a farle andiamo a farle via la cosa eh la fortezza io metto la musica io metto la musica fuori 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 il dietro fuori fuori fa fuori 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 il sono tanti questi che gli ho messo la restata cazzo fai 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 La mia arena, le ultimi costi pesciti se ne andranno, il tempo basta, non dovete uccidere! Occhio eh! Che cosa si fa spi? Chissà che non sono tutti bonti No, è da Joyce gioco Non dov'essere ragazzi Ho preso l'ultimo caffè Dov'è? 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 Mi sa che era quello di Div Non ho osata a fottermelo È ormai troppo tardi Che non gioco mai più, Conte Ti ho fottuto anche la RPK Ragazzi una terra, una terra, una terra, raga è pusciato una sopra, una sopra, freccia dietro che palle sono appena tornato da vaffanculo va appena tornato è già son morto perso pure che sono scarsissimi porco dio questo è il bottino tutta precoci tornano sempre i compagni in realtà provo a vedere i zainetti di jx trovi soldi e qualcosina trovi anche quello lì davanti alla porta anche quello di coca che mi ha fattuto le armi e mentre si vantava è pure morto esatto e un po' godo un po' godo c'era roba c'era roba quelli zaini davanti alla porta la testa 4 4 questi due non li hanno usati oh qua si sono è botto no 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 cine sono botto che flick freccia madonna ecco vai restare quello che arresti c'aveva no basta gli errati soldi altri 4k per un altro arresto resta tutti tranne coca ma che non resta te che facciamo aia 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 perdi il game freccia tanto se già che fai cagare che spavalo 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 non te ne sai il divino ma sei leggermente più umile a quest'ora pure il drop sta scendendo no mi vado a prender più ma neanche ma comunque ti dico sto bass p non è male ma che cazzo dopo quello che mi hai detto basta non ti rispondo più può killarmi un botto c'ho un z per me come killar qualche botto che non posso prendere la roccaforte poi c raga restatevi prima che mi sparisce tutto c vero sei tutto l'ultimo i sordi ramella 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 1956 burn strada rame mm dice se non fosse un gioco tossico come la merda bello ma non è quello tossico cazzo se tossico rostro no ma non più come prima dai peggio anche prima no no non si deve scherzare su queste cose si deve piangere e basta si deve piangere e basta ti ricorda nei vecchi tempi dove facevi il cazzo che volevi adesso non si può più si ho sceso prima lo potevi troppare un bel dione negligente track track quello ping a me che mi interessa arriva da voi un ottimo ora prendevo anche il bombardamento sotto dove sono i calabresi sopra di divine non strane arrivo ora 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 ok l'ho visto dov'è craccato attacco su l'obiettivo principale ragione ma sempre ti fai e muore eh 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 uno contro sette mila da perché a lui piace ma dietro un altro qualcuno ha un altro team mi sa eh si dice un altro team un altro team un altro team da dove dallo shop dallo shop l'ho sparato appieno di sopra a me bravi non spawn non è un push visto ma da sotto si è sotto sotto carcato a terra 4 qui da destra c'è Kino c'è Kino da destra sud ovest 207 è proprio in cima in cima in cima visto questo che mira che c'ha questo lui è stato dietro un bombard dietro un bombard c'è stato caffè lungo ehmine c'è quasi caffè solo caffè vado a restare il peso morto vai 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 vado a restare quello che fa l'ospettatore oh c'è Kino c'è sempre lo sniper freddo Crack, crack quello! C'era sopra, c'era sopra, lo sento Flasciato C'era sotto, c'era sotto Arrivo C'è un altro, c'è un altro C'è un altro sopra Piano terra, mi sembra Sì, c'era sotto Poco che l'abbiamo interdettato Poco che di qua Moriva di nuovo, ma quel cazzo che l'ho arrasato Quelli da fuori raga, quelli da fuori Questi arrivano Li ho visti, li ho visti Non sparate Se no mi incurano E vi posso dire che non piace a me Li ho visti, li ho visti Ancora sono sotto il ponte, sono due E uno più indietro Sì Uno nell'acqua Cuscia Passo Giù, vai, vai, vai Vabbè, puoi non dire che non ti salvo mai, eh Era morto Mi viene sempre che piange di solito Maschera anti gas è qua raga Chi ce l'ho ora Dietro c'era un autoresco Prima c'era quello che ho ammazzato prima Dietro c'era un autoresco C'era un autoresco Non c'è più Non c'è più Vai che c'è qua di venire, porco di ho messo il ping Quanto sono io Va qua qua Vabbè Va bene, va bene Frecce Eh, mi spara con ping E' cosa? Sono io Ah, ok E' di autoreanimazione Grazie Frecce Gentilissimo, non dov'eri Gentilissimo No, ti prego, ma voglio provare L'acqua No Io ero batto un RPK da terra Ma tanto se abbiamo tutti stesso uguale Quindi cosa cambia? Cazzo Nooo Vuoi vedere il mio Bus P? Lo vuoi provare? Il Bus P non è male, l'ho visto che l'avevi utilizzato prima Ah, mi si sparite le armi, Dio caro Faccio la Fennec, mi trovo troppo bene Guarda l'ipfara, provo a sparare due colpi con l'ipfara Provo a sparare due colpi con l'ipfara Qua cazzo E' abbastanza immobile E' abbastanza immobile No perché altro è F, non c'è C'è, non A parole 2 Nooo Il reticolo con un sparino in ipfara C'è troppo piccolo Qua c'è la pistola all'animante E' io una già ce l'ho E' io anche ce l'ho già addosso Ho sentito uno saltare Lo zaino c'è il coso C'è una cazzo, una sacca di placca Io dovevo trovare un cazzo di zainetto di Jax Eh, io Se no bestemmio come un veneto Poi odiami skill Ogni volta mi devo trovare con 4.000 cose da prendere Vito Eh, bu, l'ha chiamato eh Ah, è andato in volo E' io Ma che macchina arrivo? Senti in volo C'era un uomo C'era un raticato C'era un uomo C'era un uomo Ma che se eravamo tutti quanti facciati Quell'uomo Nopra la macchina si prendeva una cagata Si senta Col cazzo che si menteva sopra la macchina però tranquillo leggermente ma che non è un'altra macchina qua ah mi sa che no è morto quando fatto per la macchina va andiamo in safe la proposta abbiamo una bella pedalata da fare non ci muociamo di stone anche essendo morto mille volte c'è 10 kg il cioè il ratio di 1 adesso va bene goga dobbiamo chiedersi da 1 non è che sono tanto sicuro 08 dc 065 dai dobbiamo essere pignori adesso altre due morti il divino le fa tranquillo ecco quindi presume il fatto che muore lo restiamo e muore di nuovo e non ci sono shop però no magari c'è evasione eminente magari c'è anche quello cosa ne quando lo fanno l'ultima dell'attività eh ma se l'ultima in safe lo fanno sta safe qua dobbiamo fare ma qualche nemico ci sarà da qualche parte ma è qua tutti diventatissimi sicuramente la gente mormora se l'hanno presa comprando l'hanno chiamato da zaya questo settore scotta la puttanaia io quando mi fa salire il tuo gioco dei merda adesso mi piace la sabbara clay moria la metà sotto ovviamente mi sono pregati ovviamente sto a fare delle cose io il palazzo dove sta divaino è bello si è tornato come il vitello si è gruppato uno parate 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 buono buono povero cristo tranquillo lì in volo faccio l'anima sua io si mi vede una macchina che mi arriva c'è uno lì in open comunque raga l'ho visto level ping level ping bella 1 e 1 sottissimo qua raga l'attacco aereo levo ragina hai lanciato bombard e qua ma mi spariscono le armi ma che cazzo mi sta qua c'è un cecco di va guarda guarda ragazzi pushano la da e qua è sarsicato per terra io feo sono due sono due noh non li ho visto uno è fuori e uno è dentro cazzo uno tiene nella porta e l'altro proprio sdraviato in basso a destra sì ma io non ho capito per quale non ho capito per quel motivo ho preso ho preso lo strela da terra per fare un colpo mi giro non c'è più l'arma cioè non sei praticamente da solo copriti le spalle sì sì mi pusciano da sopra un cecchino sopra io ho gente sotto di me anche ho craccato quello di ben sale dalla scala qualcuno mi sale si sale ti sale ma io sono morto tanto ero troppo scoperto la scaletta dietro è la tua bild di guarda sopra 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 ce li hai c'è più sopra più sopra ma c'è una gente anche dalla scaletta che mettiti delle mine piuttosto se esplode insieme all'oro a proposito di esplosioni non è rimasto dietro che gli hai messo? ecco l'incendiato titolo anch'io? più a sinistra passi ti coglioni sei un vecchio saggio o solo saggio? no solo saggio va bene metto una mina a grabbolo solo saggio va bene riposazione raga non vanno a terra vi giuro che sto impazzendo ricerca il posizionamento piuttosto eh mi devo andare a mettere c'ho la maschera mi devo andare a buttare nell'acqua guarda là c'è dentro la cosa? eh non ci guarda qua vedi c'è anche sotto occhio non ci arrivo è di sparare di sparare guarda la maschera guarda di sparare sparare di tutti eh ma c'è chi c'è chi non ha capita ha lasciato eh ma sei morto sei morto no se si butta no eh ma davanti c'è un'altra dieci quello problema divenire nell'acqua si vede a vedere dell'acqua eh non dovevi iniziare il paracadotto eh non dove apri il paracadotto c'era già gente nell'acqua che notava le papere vincono questi qua che stanno già in acqua la mamma papera eh ma c'è una mira di merda nell'acqua eh molto peggio è infatti morto mamma mia o no comunque non era mio quello era i pick up eh non era neanche il mio comunque pick up da terra era verde è mio era marroncino verde dici verde sì ma il problema è che prendo uno strella per sparare a uno verde chiaro saranno passati 15 secondi niente mi mi wipe al cosa l'rpk bel gioco eh che forte il mio rpk rpkh e niente apro la live di keybase arrivederci bella grazie tutto ciao grazie a compagnia ciao ci vediamo domani il gullite che sta facendo le le ouijers ovviamente il gullite già gli ho detto ma se ti vengo a prendere quella musica mi fa no che poi mi piglio il copyright no mi prendo il copyright e poi sono cazzi e mi sono detto tranquillo che il copyright è l'ultimo dei tuoi problemi se ti puscio con faccetta eh bre no si per bannare qualche streamer tu un giorno ma sarebbe male ma è uno dei miei prossimi viane si potrebbe fare qualcuno che mi sa sul cazzo o potrei cominciare così for fun tipo da qualcuno dei maids non so e perché proprio io eh perché proprio dei maids e che mi scrive no è vero raga faccio l'ultima io io ah minchia sembra strano che stavo solo da un'ora e diciassette minuti live sto giocando da sette ore da quant'è che stai giocando no mi è crashato raga porca troia volevi farti l'ultima e il gioco ha detto stacca mi è uscito mi è crashato proprio il gioco voi siete startati o siete in lobby ancora? startata ora vabbè dai bella dai tranquilli giocate dai ci sentiamo un'altra volta senza che uscite se vuoi farti l'ultima la guettiamo come vuoi eh se volete si la faccio l'ultima vai vieni chi è lost? oh raga oh leccia oh sei tu lost mi sa non ho capito sei tu lost mi sa si vuoi comprare no ma non ho parti parti allora cosa sono tranquilli il messaggio lo guardo sempre ecco il saggio il saggio da leggere tu lo senti questo dare di libertà perché ah ok capito in che senso e dove sono gli altri di quittare sei tu lost ah sono io no ma no credi non so il 17 parti già il 17 Gigi il tu su battle.net ti chiami cheat tutto finito tutto finito cheat perché what are you the online battle.net cheat veramente no coca Gigi il ci devi dire qualcosa si è la mia doppia identità ma scusami ma su battle.net ma ci sono qualche tutto neanche hai il pc come fai ad avere battle ma tu come fai come fai a sapere che sono io quello perché sono sul suo sul tuo profilo mi esce di online battle.net cheat id activation gigil gigil lo puoi avere solo se hai il pc no eh si allora non lo so io non ho ancora il pc tra me mi arriva mi esce mi esce ancora ma ma what cheat ti hanno anche dato il profilo e ti hanno cambiato nome ti hanno messo cheat il profilo di battle.net vuoi che neanche esiste il tuo profilo di battle.net facciamo una win raga non credo no no aiuto allora sto facendo questa ah no devo modificarla no sto facendo questo poi ottica ottica lame op kkkk e poi cosa devo bisogna mettere l'rpk al sottocanna vero? no no cosa bisogna mettere l'impugnatura la demo allora il caricatore la 100 colpi il laser poi no non è vero bastardo non mi ricordo com'è il set aspetta munizioni alta velocità no l'alta velocità non mi piace tanto ti dico io metterei più le perforanti dai per bucare per bucare i veicoli ti buco il cervello madonna di dio esperienza pure tempi d'oro tempi d'oro soprattutto buonanotte peppalone passa una buona nottata e non sognare i gatti che ti attaccano perché sennò fai come me che pichi chi è a fianco io raga ho sognato che mi attaccava un gattone enorme e ho picchiato martina senza volerlo di notte urlando ma che cazzo si l'ho picchiata non volevo però ho detto non ti picchio quando devo picchiare un gatto stavo sognando di picchiare un gatto si perché mi stavo attaccando buonanotte massimo massimo te lo stavi staccando d'adosso era un gattone enorme stavo attaccando beta ttb si cerca era un gattone bello grosso era tipo la gatta nera del mercante in fiera non so se ve la ricordate non mi ricordo come si chiama la tipa si 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 e te freccia quanti anni hai del 2001 98 allora si così mi coetaneo quindi mi sa ricordare per favore la ricorda freccia patata quella eh si patata vera della mia crash un piatto che crash questa terminologia odierna questi metodi ai miei tempi si diceva la mia zoccola adesso la mia crash molto più educati tu quale dei due preferisci eh preferisco eh dei miei tempi ai miei tempi si ascoltava un tipo un certo tipo di gene di canzoni adesso se non ti ascolta la musica d'amaranza sei fuori dal gruppo sei uno smitch nel dubbio li metto faccetta breh no 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 io rimetto quella io rimetto io rimetto quella senti mi so per quel parito politico io non ti coglioni ti taglio la go funziona così adesso io rinconcio a capire no mi si fa non mi si staccato il padre ce n'hai 8000 oh c'è c'è l'arma questo in realtà la pistola ed è morto questo non c'è la pistola uno fatto l'altro c'è l'arma lui no l'altro l'altro c'è la pistola mi date una mano please ne sono fatto un altro con la pistola non è come si stacca il pad c'era un team di assatanati di figa di un bastardo l'altro si stacca il fuoco in me ciao martin mi dica sono morto sono morto sono morto la prima volta che è sveglia lo faccio adesso sto dormendo ciao 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 abbina fantini no 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 faccia direta porto non c'ho capito un cazzo Ma c'è gente, Freccia, ancora? Cosa? Cosa vuoi? Sì, io droppo, ti dico solo che ho messo la canzone della Siri e questo me la cantava, porco Dio Oh, ti sta seguendo, ti sta seguendo Ti sta seguendo Niente, mi sta... Niente Quanto godo Coca M'hai visto? Black Eagle Black Eagle, è lui Ah no, non è lui, dai Ha la L nel nome lì Sai che meme se chi la fa Black Eagle? Minchia che ridere Dicevamo, oh merda, ti abbiamo visto morire Ha giocato oggi pomeriggio Sì, lo so, lo so Eh, peccato che non potevo giocare Non so se è diventato scarso Dov'era già Sono messi Io che non gioca ne ho cinque giorni, eccomi qua, guarda qua 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 questo Vai dar una mano a freccia, coca, zia Sto guardando com'era la fila Minchia Vabbè raga, mi gioco, mi gioco le chiavi di card Raga, raga, porco Dio, non mi salgono la scala quando mi si stacca il pad, porca ma don lo mangio Minchia, mi gioco, mi gioco, mi gioco Eh, vabbè, sei incazzato Non c'è in 4, 5, non so quanti cazzo sono venuti Mi fanno più the music, più the music again, porca madonna, cantavano Minchia, mi gioco Cantavano sempre Ma che cazzo La cantavano, porco Dio, non, boh Minchia, mi gioco Con freccia è un continuo, mi dissocio Non basta Eh, vabbè Dice il vero? Dice quello che ho fatto la gnocca qua Cosa, ma mi spieghi che cazzo stai facendo Sto cercando soldi, mannaggia de Dio Manco la paghetta dei genitori, era così povera Dio Fai che c'è la tag del coso della nuca Vabbè, nemico pure A questo si chiama Dove che andiamo... dove che vado a fare la cosa? La cosa cosa? La fortezza Ho un contratto Dove vado? Eh, proviamo ad andare lì, però No, dove stai andando, però Andiamo là al ping mio? Fare il contratto? Ma eh Volendo potevamo fare anche questa Ci potevamo provare Eh, se vuoi ci scendo io Però perdiamo e basta Mi sa Puoi andare là? Vai vai Eh, come Non sento nulla, non sento nulla, neanche lui Allora sento solo loro Boh nooo, si è aggrappato madonna eh, non ci scassare il cazzo arrivano giro il cazzo a mone aspetta, sta arrivando non è botto, gogan i due ci stanno gillando è botto non ci scassare a mezzare bella non è 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 Dov'è giù intanto? Quello è che noi gli stavi sparando credendo fosse un porto No, no, stavo aspettando che salisse il merda Cazzo, di botte di merda Mi guardano attraverso il muro Sono sempre usciti in pre-fire questi, non so, mi sa che cittano Terra, sopra M***a, è quello che citta Paggot Si fermano i gruppi di media No, non l'hai cacciato, non l'hai cacciato Sotto due, che cazzo, Goga Va bene lo stesso Va bene lo stesso, ma no Non c'è senso Questo era un botto mad, eh Un botto tantissimo mad Chimera è full perk C'era una piastra C'erano piastre Aspetta E io sono un tecnico tirato Stavo aspettando bello bello, eh C'avete uno sciacallo a fianco C'è che è pieno di gente, però L'energia, addirittura Un'altra piastra Questa è un po' di bello Ah, sono tanti pottini, quelli Ma lo sai c'è la rocca forza mezza La rocca forza mezza È un po' vero, questa è quello vero Perché stai girando a doppia mitigate? Perciutto Questa altro non è veramente L'infaggiamento alleato E' li dentro ma non... Fosca musica no è entrato è uscito è entrato di qua c'è l'arena per il like avrà capito che non deve farlo più mai più non è per te conferma sta musica freccia la terrestre manca qualcosa non ci credo tanto anche gli altri hanno preso lo sciacallo peccato i don't give a shit you faggot i li trovo qua you fucking faggot andano avanti hanno fatto esplodere la cassa mi ha sentito qua per qua c'è ha sentito la cassa che esploda qua per qua e qua la seconda trovati si però ti salgo give up give up guarda la shop dietro adesso è la terrestre la terrestre è la terrestre la terrestre è sempre divine c'è simpatico come un no c'è capito con l'ansia proprio quello proprio quello il calabrese mara scendolo di muoio magari preparate leggi e soldi che siamo non chiesto più guarda che ho fatto il video profetto per l'ospettatore a vita posto sono abituato a c'è genti sono morto cittadini c'è fra io sono sei questi qua c'è il team il team il team l'ho cambera mi vedo dove sono? no, sono caduto dove sono? dove sono? no, sono caduto dietro, hanno fatto qualcosa sì, ho visto 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 andiamo a prenderlo che c'è da soldi parla sottovoce, parla sottovoce questo questo parla sottovoce è nella macchina questo sì, perché ora ti metto la musica yo bro buona sua music ah è sopra sotto 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 sotto? guavine emico, guavine emico guavine emico guavine emico abbiamo di due resse abbiamo di due resse green si è sempre stato così tossico ha chiesto ci hanno fatto diventato alla roccaforte c'è ancora il nostro loadout no ma andiamo di nuovo allo loadout così moriamo che dici cc guarda io non me la sento di seguire sinceramente dici dici che non sono più affidabile questa scelta non mi sembra affidabile mi si è come se non c'è per il pad si sminchiano le cuffie tutto bene liberi liberiamo ma che fatti si discone tra porta usb dal pad il primo piccolo rapporto con te del porto mi sento il rumore di windows ogni 2 secondi portaglio pure si arrivano faccio il giro dall'altra parte arrivano dall'open 1 down solo che c'ho il bombardano che sto da darti una mano adesso posso uscire 1 down ok terra ok sto salendo su no dai dietro 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 grazie grazie terra bombarda dio cazzo si è morti si restami ci resto io thanks copri coca vai vai ci sono i bot sono l'ultimo sono l'ultimo sono l'ultimo porco dio solo perchè c'aveva una placca in meno di ospra tutti i colpi in testa non muore è basso c'aveva c'aveva cazzo al cazzo che non è morto si è basso è basso è l'ultimo è l'ultimo lo devo a vuottare un tiro è messo il possibile niente ma è affanculo pezzo di merda bombarda su di noi ragazzi vai mettete i soldi insieme e restatemi va ma no facciamoci muov Melbourne andake non ho conti adame dai dai li fatti adame od dependsitz wastepl implica stasera macthere sono molto incontrollato poter ma ma visto cattiva guardi qua c'erba essere un cadavere sempre c'è sempre stato così freccia più sinistra con la sinistra c'è un cadavere aspetta aspetta che c'è io gli fanno un regalo a natale che regalo di merda sono arrivando in volo ora che aspetta sono come quelli da gli americani che fanno no guarda che c'hai davanti coca eh guarda l'uovo non riesco a capire faggot bitch yo bro nice ass è nare è nare è nare è nare a comprensione guarda me raga è qua di fianco a me qua di fianco a me sparate è fermo è fermo è fermo ma non si vede come sparate visto togli ping togli ping togli e appena lo riesco a pigliare eh eh non lo vedo ma questo raga ma sono sparite le mie armi ma avete inculato tutte le mie armi si le ho prese io abbiamo passato tutta la partita praticamente la torna a star a caffè arrestare me a ma avete inculato tutto non c'è nulla non c'è rimasto un cazzo qua non c'è più niente eh nott o god dobbiamo fare il rottini ecco il cazzo che qui resto poi eh 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 ehm sì da eh mi piace a nuova zona sicura e localizzata ma se c'è questo sopra no, quelle no per te la roma mi lascia i soldi arremetto pati diciamo tramite alti boh vabbè per darmi ancora 4.630 dollari forse a posto dopo no qua non c'è l'uomo niente di strano tutto a posto è il gioco tutto a posto non è in ordine avete rotto il cazzo bottini di merda e basta mi stiamo snervando proprio oh qua c'è lo lancio subito volete volete e di vine sta bello addentrato si in mezzo ai bot no il modo di vedo il signal così io chiapperei questi qua fuori l'etanto lo è un fight da vicino muoio si si sono arrivati preparate sono lì per restare si si il scherzo mi vengo prendere le mie armi mi vengo prendere attacco aerei o l'earlo attacco aerei o le altro ma freddo ma sei quasi un close si 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 lo fanno qui si ma l'ho ammazzato ah ma hanno pure il restato hanno pure il restato qua togli togli ping togli ping togli ping togli ping poi c'è più non c'è più arrivo da te freccia voi fatevi altri raga dammi un'editazione bombardamento di precisione ho una crossacquara a terra mi sa che saranno qua sopra ah no aspetta bastardo l'hai fatta arrestare ah il tuo no serve eh po' 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 figurano in merda deve essere un altro è andato lì l'altro torri cg occhio 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 non faccio ste robe non so se in safe quello hanno arrestato lo shop infatti veniamo da voi uno fa è morto mi fa uno da loro di me uno ti cura lì dentro si 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 è lì dentro infatti però vada lì infatti non sei troppo in open evasione parco dio ah c'è tutto il fumo sai che è scappato faccio il giro largo di da sinistra quindi non riesco a prenderlo stanno a fare il giro da su vado a destra raga vado a fare il giro da hai visto non lo vedo io capito ho gente giù io raga capito possibile che io che lo sto pushando ma quanti cazzo di smoke up quanti cazzo di smoke up ho messo one shot capito one shot dove gilla minchia dietro una roccia proprio alla missione coprimi che si deve arrestare adesso non arriva nessuno dobbiamo andare perché sto gioco fa cagare c'è gente qui sulla montagnetta è tutto open qua sono a sinistra ecco sono a sinistra io c'è uno sotto c'è uno sotto niente un altro un altro team pure sotto il tunnel di vai mi salta c'è uno sotto c'è uno che parla si anch'io l'ho sentito e da sopra sparano questi occhi io mi sto giocando l'endgame veramente di merda oh ve lo giù sto pushando chiunque una knock sulla montagnetta sto pronto da me mi hai fattuto le kill venite dietro vi faccio vedere dove è quello nascosto quello che sentivano parlare era dietro il tuo team non sono nella zona c'era si mi hanno puttato alle case dove? ho sbagliato per terra sotto sono safe mi adoresso c'è un bombard se serve c'è un bombard dove lo prendo io? mi ha scortato di via sopra staper finire dove freccia dove? al ping al ping al ping al ping al ping sopra il tetto sopra il tetto donna l'ultimo no il bomba il bombard la freccia è l'altro no 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 con rpg sono tutti i freccia west stavata l'anno 8.000 dopo portano ecco la casa 6 cazzo devo venire in qua no quella casa lì è in safe sopra la torre ce n'è uno quanti.000 che sono dentro la casa ce n'è uno ti ho buttato quella sopra ragazzi non c'è più col PTR oh dietro sta sopra sono ferita ma fatto ma fatto ma fatto ragazzi in avvicinamento nuova zona sicura no più erogante oh feciò u faggot faggot bitch insorcio non c'è manco i soldi per restare volendo eh no senza colpi senza stan non ho trovato un cazzo io bel gioco de merda no cazzo parte 2 sopra prossimi vabbè siamo morto ciao 8 8 8 8 8 8 8 8 senza un senso senza un senso vaffanculo bel game gg nè dobbiamo fare di meglio secondo te io ho un game dove sono morto mille volte dico bel game a me penso un po' mi autoprendo per il culo vabbè chi non lo farebbe in realtà a prendersi per il culo a soli a prenderti per il culo ma perchè vogliamo parlare di te non ho trovato la cosa niente comunque andiamo in quando gioco di merda non riesci a far più kill di me ma sei andato gil ma staccato così ma andiamo in cile raga andiamo ad andare a volarci in cile andiamo a fare un po' di in cile in cile in cile in cile hai visto il cile gli uniformi del cile come sono stratiltato gil sono come quella della vermatch del 1940 in germania oh tu vai a vedere la marcia del 40 in germania e vai a vedere la marcia attuale del cristiano in cile è uguale identica stessi uniformi stessi elmetti stessa modo superandi di fare delle cose eh ma guarda che abbiamo capito dove è andato zio adolfo non era in argentina era in cile guarda che fra un totalitarismo a un altro alla fine siamo lì per non dire i nomi che sono abbannabili uno soprattutto frutolf frutolf no zio adolfo non è abbannabile punto però il nome del suo regno si non so come è come il regno del nostro italiano non puoi dire niente inerente al fascismo che è ecco ma ci sei comuni che hanno fatto più danni eh lo so lo so lo so infatti guarda adesso quanti danni sono facendo sono continuando a fare danni io a me sfondo un portone aperto quindi se se dovessimo parlare di di queste cose qua non finiremo più o nel dubbio fa schifo eh quello a prescindere nel dubbio e poi non riesco a invitarti div vabbè gioco da solo sì ciao bella no cattiveria dai entra bre bre adesso entrando a lui la cretina ti devo fare o sto freccia eh boh la stessa puoi trovare i tre yard a me posso mettere anche la skin di ghaz volendo terzetti quartetti cosa devo mettere singoli singola singola mini royale ma l'ho e anche io quella di ghaz io ho fatto il coso eh lo so ma nessuno la vuole fare con me eh se voi la possiamo fare in modalità veterano eh veterano anche peggio no a me ho già visto che è una bestemmia già già normale qual è quella missione che devi fare nelle fogne sott'acqua sì tutto sott'acqua che merda no è carina in realtà ti dirò ma questa è terza persona sai dai faccio un biore terzetti che magari becchiamo qualche qualche tre yarder eh terzetti sì faccio beccarli terzetti che in quartetti già sono usciti i bundle del 2023 e comunque c'è il lupo c'è il lupo da solo eh aspetta un attimo riesce a giocare con fleccia lupo lasciamolo da solo qual'è il problema? io gli sparo la musica massima vediamo quanto dura lupo blanco lupo e 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 blanco pezzettino di ah la ripper oh che scherzo leite da me oggi vipper è alta velocità abbiamo tutto da te oggi abbiamo anche detto buttella va bene così ci facciamo i preservativi come facevano nel 700 quelle buttelle da di maiale si facevano i preservativi nel 700 anche prima però la risposta è solo quella classe lì di merda sì, quella classe di merda porco dinci che merda meglio veramente mettersi un preservativo di budella di maiale mai avere un maiale che aveva un fottipo al vapore di che aveva un cotto o prendere l'AIDS e morire non lo so o morire o non scopare o essere un prete oppure facciavano 8000 figli anche, o se no fai come sì, i calabresi ce l'hai con i calabresi? che cazzo ti hanno fatto? i calabresi per non dire line word devi capire quello? anche perché negli anni 80 hanno cognato Calafrica punto quindi qualcosa poi andiamo all'osservatorio ci facciamo tre team e poi ce ne andiamo ad Hydro Electric dove uno di noi morirà andranno avanti due e poi verrà verrà l'estate sempre che non muore qualcuno prima Zaia o che ci moriamo tutti quanti? no no non moriamo Zaia me lo sento adesso vedi Divine Shender ci muore subito io ho un po' che si può vedere mi piace che mi prende da in giro perché so scarso quando facevo leghielo a testa tutti zitti che vi carriamo ogni partita però quando ti fai carriare da uno più sforzo del coltello mi faccio carriare un giorno subito a lamentarsi non si ricordano mai un cazzo questi player però ricordati meglio un giorno d'alleone sento da tecno se non ce ne avete perché avete qua andato lo rifiungo a voi visto? ok, buono vai a prendere il pane vediamo cosa non puoi dirmi mi dove sono i tuoi compari dove sono i tuoi compari ecco i belli eh e li fresco ma intanto ci muori ci vediamo dopo il gulag io qui senti i tuoi compagni si si arriveranno si si c'è molta gente ecco tutt'al tunnello terminateli si eh di quella che è la casa l'avevi affianco a cazzo io vedo che cosa vedo tu l'altro che spara uno dico vedete qua uno dei due non c'è gli occhi tutti e due non lo so qualcuno dei due mente amogos è quello che muore allo start alla fine non sono io l'altro era sopra l'altro era sopra l'altro è sopra l'altro è sopra l'altro è sopra l'altro è sopra c'è un altro sono due mi sa si sono due sono due io bro io un top un top bro top top un tuo compagno è nella una dai coca ti vedo c'è il mid c'è il mid ti push no è rimasto mid uno l'altro è dietro il cosa a sinistra io solo l'ho visto un tuo compagno è stato inizato a rientro fuck you hell vai in come sei messo una merda a 90 tu invece c'è io ho tutto bene grazie grazie dove era la sacca che aveva tertingato uno la me eh avevo io ho mai mi mai boom scuola posto rio sto fai dando io direi anche grazie al cazzo io santo questo misto 1 pensavo a scuola 2 non vince il fai il sacrazio di scuola non vince il cazzo di fai c'è uno sopra io purtroppo perdite che le fratezze sono uscite di provare qua io sono un compagno un compagno fortissimo in realtà se l'ha fatta in ram quindi la pippa sei tu diriggiti alla zamantina si vorrei essere tranquillamente io la pippa c'è un'altra parte c'è un'altra parte sembrava stupido c'è un pacco qua mi ha sorpreso uuuuuhh c'è un'altra parte cosa è morto oga c'è un'altra parte ma c'era lo avvi è ovvio che sono due mi resti per favore no 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 dovrebbe stermiare fortissimo si sce aspetta che me lo faremmo ma quando volta sopra al non un muni assalto un altro uav ho trovato poi c'è questo poi c'è un altro tac miro l'altro uav si sono lontanissimo ho il tempo di uccidermi ma quartetti o terzetti che cazzo questi qua sono in quattro in merda uno sta salendo su è su sono in giro craccato yo bro come out mi sono suicidato porco diego bella giocata frecci bambi a laurea bordempo p.v tv per questo così sotto questa sembrale per il culo dopo a me veder me troppo per il culo qui è fatto pc che è infatti 4 dove negativi il volante raccontate essi tutti negativi e su tutti sopra le tre chili vero la parte sopra il chilo ma con 10 morti ptc resta però 40k colicottero penascenti e ciò sali oppure di rimango qui morisco la 6 il te lo giuro ti faccio morire fuori 6 gioco gioco a te è già successo oh oh freccia pur scusi se non puoi morire non muori più te lo sbaglio lo schiena non si ti schianti che t'ha buttato l'amico già ce l'ho provato eh no beccato 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 guanna beccato guanna beccato guanna se perché ho letto la tag uuuh attaccò roba faccia beccato ora abbiamo un conto di me sopra le montagne se che sono loro che hanno detto il bombard non li vedo andatemi un ping le montagne dietro questo settore scopo l'ho visto non lo vedevi uno flashato porco dio da essere stato l'altro fro niente mi vogliamo ammazzare tutti i costi eh niente salito io fai got ma perchè deve fare il tossito frecce si devo farlo porco dio devo sempre stare 10 team che mi devo sparare loro mi sparano mi sparano pure wallbang e mi pigliano sparare io wallbang non lo dito manco per il cazzo io salgo la scala e lo sento sotto e me lo ritrovo sopra son tre coga son tre sono piccati erano due e son boh da uno a due a tre boh no no sense scappolottina numero uno scappolottina numero due scappolottina numero due qua hanno arrestato pure ma niente quando incomincio a fare negativo è meglio che da questa mi rilasso mi vado a vedere qualcosa a bere o a vedere cambi cambi ansiasso il programma apriè il programma adesso mi vado a vedere un bel entai va bene vabbè che giocata intelligente ma visto da dietro figlio di lurido ho visto adesso che la kill cam che giocata qua quando esci senza parti senza rimanere a guardare le guardate vabbè ci guardiamo il game di questi come si bello c'è uno c'è sognatandon c'ha 18.200 io l'avrei chiamata sognatardon però va bene sognatardon l'ho killata dio ho già le armi su ultra mega settate mannaggia il signore risorse eh no ma non ti dico che signore uno che conosco un signore simpatico alla fine aspetta guarda cosa scrivo ho quitato sei da solello guarda no c'è anche freccia no freccia ha quitato ma ma e io ho scritto sogna tandonne l'ho view si è messo a le si è messo a leggere stava morendo scasso no ma è bloccato no ma non viene più avanti sto coso no non lo sono più traducendo sto porco dio ma sono dei fro che è successo sono dei frozen non sono più traducendo anime boi che cazzo che anime boi è una cosa abbastanza brè come roba brè però nel mentre ho guardato tipo ero lì che mi sono usciti un po' di cose stanno uscendo parecchia roba che sto leggendo chainsaw man chainsaw man l'ho letto prima che diventasse così tanto mainstream ma non mi era piaciuto l'ho droppato non lo so l'animazione è veramente figa ti ho letto il manga e ma il manga se non c'è una storia bella tipo naruto c'è one no adesso uno che mi sto leggendo è tipo coreano sì coreano mi sembra che sia arcano e sniper si chiama un cechino arcano e carino è carino il problema che sto controllando questo mese o lo scorso ho detto questo qua è la fine della seconda stagione tipo mi sembra che è la seconda o prima stagione sono tipo 70 capitoli da leggere 70 capitoli 70 non cazzo e ammetto si ragazzi sto su questa è la prima stagione finita ci prendiamo tre mesi di pausa e la ritorneremo tra tre mesi io porco dio l'unico bello che mi piaceva è che diciamo una bella storia ma lo devo finire adesso bene o male ne ho trovati un altro paio che sono carini tra quelli più conosciuti qual è il tuo preferito? uno che adesso vabbè tutti ce n'è uno che adesso ci fanno anche da anime che è un manga coreano che è il più mainstream di tutti è stato quando ho cominciato io a leggere così l'ho scoperto così a caso un amico mi fa ma guarda ti ti ho consigliato quello lì invita invita io ho quitato spento si si spento cod ok anche ho tolto anche tu? si 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 ho messo fifa giù minchia si mi ero anche un po' stracciato dai coglioni tipo ti ho messo la verità ma che cazzo non diciamo? io continuerò il mio allenamento per riprendere le mani eh continualo va è meglio poi ci devi carriare eh ricordati ah manganelo dico come si chiama? se no come cazzo ci carri se non è non si buono ah allora innanzitutto non si è buono almeno me lo dici scusate c'è sto qua che adesso va mainstream come manga cioè che come mainstream è che tutti adesso lo vogliono vedere solo solo leveling ma qua c'è un fatto... l'hanno già annunciato come anime questo qua è il coso 180 capitoli sono di roba no minchia troppi ed ed è pure sono pure lunghi sono quasi da 4 ore c'è tipo ancora di nuovo hanno rifatto manga rock sul telefono? manga rock non lo so c'era manga dex mi ricordo dove li guardi tu gli anime? ahm anime world mi sembra si chiama si se li guardi questo stotillo lì in italiano si però il manga me lo leggo in inglese e a Maldini hanno fatto... no aspetta Maldini è a destra raga boh non lo so no aspetta Maldini io mi ricordo sempre che è stato scritto questo qua è anche a colori se ti interessasse leggere questo qua ha colori questo qua solo leveling è pure a colori beh figo cazzo questo è pure a... però è solo in inglese in italiano c'è? non mi noti anche in italiano c'è 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 io lo leggo prima prima lo leggo in italiano poi non... ma hanno chiuso tutto e ho cominciato a leggere in inglese intanto è... perchè io ho detto mi sembra... è sempre i stessi qua che hanno fatto che hanno anime world dove è anche la stessa manga world e lì mi sembra che dovrebbero avere la scan di solo leveling in italiano beh, sì ce l'hanno 179 capitoli mi serve qualcosa che c'è di più gioco ho chiuso a perdere da uno mio collega la gente lo è ah... io non ci sono messo non tanto a me... io li leggo in inglese perchè vedi lo vedi che ti sento che c'è in italiano sì 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 ma ho sentito che... con due ovviamente bella scendere non con uno esce subito l'amico se c'ho... come si chiama? se c'ho... lo parlo di... cioè lo guardo in inglese almeno poi mi aiuto anche un po' con... con la parlare se hai parlare inglese tu frecci eh... un poco lo so poi c'è pure i vicini in inglese... eh... svedesi quindi mi tocca parlare in inglese sono obbligato svedesi 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 eh... hanno comprato una casa quella a me e... via ma comunque questo qua è bello come cosa speriamo che l'anime lo facciano pari pari e che è proprio uguale a questo che non saltano un cazzo come in tanti altri che hanno saltato hanno cambiato la storia tipo tutti i siti sono tutti oh Dio sono l'amica FK ecco che mi passa la voglia di giocare Dio Cristo sono tutti gli animi poi le persone che magari hanno un altro mondo che sono tutti lo si chiama che c'è tutto il grado grado D grado D grado D grado D grado D ma zio ma vai a fare in culo stessa cosa ma nel mondo normale vai a fan culo ma che cazzo accendi a fare COD pippa di merda o se non devi giocare comunque la prende sempre è... bene e tu si ma te ti faccio vedere quello che dicevo io di di ma... di ma... questo cosa sarebbe manua che cazzo giocano a COD se poi non ci giocano non sono 60 thank you eh vedi The Webtoon Arcana è... è una season con il capitolo 94 guardo questo questo è il 94 e mezzo io breh preparation period about 3 months in order prepared season 3 porca come ho detto sta cosa mi è sceso tutto e sto qua è anche carino che tipo il cosa di COD mi si chiama di... World Art Online più o meno mhm sai che si mette lì il casco il visore tipo il sguardo stessa cosa questo qua però questo qua faceva il militare aspettate lo fa vedere centri perfetti tutto quanto lì piglia la cosa di munizioni gli accade ripgante sono lì che chi via l'hotel deve tipo prendere 2 milioni di dollari 2 milioni 1 no di dollari dollari i 1 sono anche 3 miliardi si se vai sotto te lo dici aspetta dove cazzo è? cioè il bello è che poi mi becco i due che giocano attaccati beh 2 miliardi 2 miliardi di won 2 milioni 2 milioni di dollari 2 milioni di dollari tu qua non sa che cazzo fare così gli danno il caschetto e praticamente fa la storia dei tre moschettieri almeno sotto sotto c'era una storia dei tre moschettieri depressione si non lo so non ti dirò non mi fa entusiasmare di prima battuta l'animus diventa jesus christ diventa assassin's creed diventa si poi gli dicono scegli cosa vuoi diventare cosa vuoi usare prende c'è il moschetto il moschetto ci mette degli anni poi tipo lo maxa il moschetto poi becca contro altri che hanno la stessa classe gente che c'ha le pistole gente che c'ha il c'è tipo c'è tipo il juggernaut si ecco però invece che avere una minigun ha un cannone in mano cioè visto che lui ha fatto lo militare sa che cazzo è tipo gli apce che no aspetta manco gli apce sono gli aphe è tipo una munizione del caro armato gli aphe tipo armor piercing ai che esplosi una roba del genere che è stato questo qua gluttomi devo uscire sto qua adesso che ho visto che mi ricordo già più bene che mi ricordo già più bene aspetta devo uscire devo uscire dove cazzo è Sì, ma le cose sta roba? Cosa? Ehm... Faccio vedere il merc? No, no... Ma... E non c'è... Delle cos'è? Ma non ha altro! Ah, impressi... Tu fanno anche una cosa di pelle Eh sì, adesso... Non c'è andato... Muo dovranno pelle tutti i gratis No, magari... Ho dato... Il tifo di pelle, vaffan... Gli ho detto, mica pelle! No, non è lui Vabbè, oggi ce l'ho mostrato secco Io ci ho dato... Il tifo di pelle Datemi pelle... Per una bastarda Datemi pelle brime Oh, bandiera? Spagna, addi, la merda Eh, ma non ha senso... 83 Non sembra farci essere in 83 Così meno 83 Eccolo qua 5 giocatori 80 più Speck con 90 Sistemi fortissimo, bandiera Walk out No Ehm... 83, vabbè Guarda... Ho già annunciato l'anime Di sto coso qua E quale? Tutto qua Ho un... È un col di... Izekai Cioè lì... Sei quelli che vengono... Chiamati Quando vieni tu eroe Brugino Ti chiamo tutta la... La classe Sto povero cristo qua In quel mondo lì C'era già andato una volta Nello stesso mondo Dove è stato chiamato Senza che poi lui... Lui tipo era troppo potente L'hanno riportato dietro E niente Si è fatta tutta la sua vita Normale Da... D'introverso Sta qua è tipo la sua migliore amica d'infanzia Di una roba del genere Sta qua tipo gli piace la... Lei è tipo cotta di lui Sì E vabbè dai Non c'è male Niente Va nel mondo Mi chiamo qui L'altro mondo è... Veramente un... 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 Ma? No I I I I I I I I E E E E la gente che conosce questo è abbastanza pure qualcosa quello di se lo sanno se conoscono il titolo gli dico una cosa che magari può interessare ma sto quanto devo vedere non vuol bene Oh yes, the box is really good. oh ieri da qua mi prende alta ma mi prende alta mi sono solo fumandato stiamo prendendo bravo vito lo spile in zona 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 il il Grazie per la visione 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 Grazie per la visione